Partendo dalla Nazionale che ha compiuto un bell'atto giocando in un campo sequestrato alla mafia, un atto simbolico che ovviamente ha i suoi significati, mi trovo con Stefano Brandini per il calcio nel sedere che sarà in edizione diciamo così limitata perché ha giocato la Serie B ma ci capisci? Io ci capisco abbastanza, poi con te faccio sempre bei figuroni, perché te non ci capisci quasi niente, ma guarda che in dinamica c'è i stupidi, no 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 non ci sono i stupidi, ma insomma sono abituato ad ascoltare a te, quindi diciamo gente comunque non stupida ma le bocca tonda, quindi se dico qualche bischerata io va bene. Ma l'avete avvertito che sono il direttore? Qualcuno lo dovrebbe dire. Io lo metto al minimo dello stipendio. Meno di così se moro, c'è la latte quadrini io. Cioè praticamente bisogna che dalla prossima settimana, cioè te devo pagare io dalla prossima settimana? Ho fatto un figurone. Ah ho capito, vabbè. Comunque bene, la nazionale è bene, tra l'altro ho letto stamattina presto, insomma è stata un'esperienza abbastanza importante dove ha detto, Prandelli ha detto oggi non abbiamo allenato il fisico ma abbiamo allenato lo spirito, insomma è stata una cosa toccante anche perché quando ha parlato quel parroco è venuto meno tutto quello che è l'ipocrisia politica o quant'altro, la presenza, le fasce tricolori ma è scesa veramente in campo una battaglia contro un sistema che giù purtroppo imperversa e condiziona la vita di tante persone. Quindi insomma un bel messaggio di quest'Italia che comunque sia, continua ad andare in punta dei piedi ma che si è già qualificata per gli europei, continua con i suoi test. Sembra che abbia finalmente trovato con Ballotelli un giocatore che quei tre neuroni li si stanno un attimino piazzando in maniera definitiva nel cervello, quindi questo è un giocatore che si decide di comportarsi in modo normale, indubbiamente ha delle caratteristiche che sono veramente importanti. Quindi direi bene, quindi partiamo non col calcio nel sedere ma con una pacca sulla spalla a Prandelli e a tutta la nazionale. Per quanto riguarda invece i calci nel sedere ci limitiamo alla serie B perché la seriana ovviamente non ha giocato per la nazionale e il primo calcio nel sedere lo prende purtroppo a Pzori il quale ha perso il primo vero esame di maturità con la Sampdoria, una squadra che sicuramente è ancora frastornata da una retrocessione che è stata l'anno scorso grottesca, allucinante insomma con la squadra che aveva ma che purtroppo c'è stata e che nel calcio c'è. Era chiaro che la Sampdoria quest'anno era chiamata a fare un campionato di assoluto vertice invece sta stentando. Poi quando c'entra il male sportivamente parlando non c'è niente da fare, insomma io ieri ho visto un pezzo di partita e nella prima mezz'ora la Sampdoria poteva aver fatto cinque reti, ha finito che alla fine ha perso una zero. Evidentemente però questo allenatore non ha saputo togliere dai giocatori diciamo quel problema, quel tabù della retrocessione dello scorso campionato, non ha saputo dare quei nuovi stimoli per giocare da protagonista questo, tant'è che oggi come oggi se finisse il torneo la Sampdoria non è neanche nei playoff, insomma questo è un dato di fatto importante. Il secondo calcio nel sedere lo prende Scienza anche se gli obiettivi lì sono completamente diversi, il Brescia al di là del Blasone è una squadra giovane completamente rifondata con dei programmi diversi della Sampdoria, resta il fatto che era partito a mille, tutta Italia parlava di Scienza, ne parla anche ora tutta Italia perché è due mesi che vince una partita, le ha perse quasi tutte. Quindi prima c'era tanta Scienza, ora ce n'è poca. Dispiace perché secondo me Scienza è un bravo allenatore, lo si capisce anche nel post partita come spiega l'andamento della gara, tutto evidentemente questi giovani forse un po' troppo esuberanti, troppo carichi dalle prime prestazioni, pensavano che di campare di rendita ma il calcio purtroppo si vive di presente. Tutto quello che hai fatto fino alla domenica prima non vale niente se non gli dà continuità. L'ultimo è Camilli, un altro presidente mangia allenatori come ce n'è tanti, un altro presidente mangia allenatori come c'è Zamparini che oggi ho letto che è quel delirante, ora è entrato anche in politica, fa un movimento. Sì no, quello gli do ragione perché contro quelli dei recuperi crediti che sono di una prepotenza. Sì vabbè ma il concetto di fondo che in Italia tutti si vuole pigiare il bipolarismo se ognuno fa un partito per una necessità e qui le partite se ne rifà 40.000, cioè andiamo piuttosto a dire ai politici quali sono i problemi ma non è che si può fare in partita. Allora qui si fa un partito, si fa bene ma il movimento diventa propedeutico poi al partito o appoggiare comunque quella cosa. Quindi Zamparini pensi al Palermo perché manda via l'allenatore ogni sei minuti, poi anche lui ha 70 anni che si fa, il nuovo che cambia se no non se ne può più. E dicevo tornando a Camilli, Camilli ha mandato via in maniera inspiegabile e quantomeno frettolosa Ugo Lotti che stava facendo bene con il risultato di aver preso Giannini e non è che non ha cambiato. No, una debacle totale culminata con Gugliere che ha perso 5 a 1 in casa col Varese. Quindi insomma sono lezioni che dovrebbero insegnare che è vero che essere un presidente, essere il padrone di un'azienda vuol dire poter prendere decisioni, ma quando le decisioni devono essere dettate esclusivamente dal fatto che vuoi creare comunque, non so, non lo scandalo ma vuoi dimostrare che te... Fare lo Zamparini di Labino. No, che vuoi dimostrare che te puoi fare e disfare, ecco oggi ne paghi le conseguenze, quindi caro Camilli, poi non capire a Grosseto cosa voleva, che voleva fare, voleva andare in Champions, che voleva fare, perché poi qualcuno secondo me perde anche... Non fa casino che esce da andarci a Grosseto, ci capita spesso, perché se no se te ne buschi... Tanto te, no, ti volevo dire una cosa, tanto te comunque indipendentemente da questo, hai una faccia che ispiri i labbroni anche se non fai niente, poi vien da dati, secondo me la barba ce l'hai però tu ti riaffi. E il cappello uguale, perché se lo vieni qui il labbroni... Secondo me è scemo forte. Guardate che lavoro, ditemi se sembra il polpo polle sopra il capo del pollo. Scusate, ho sentito la cosa della Rita. E io in chiusura, si ha parlato della Rita. Si ha sentito la Rita, secondo me è scemo forte, parliamo della Rita, come dire... Ha vinto a Zagarolo la Rita, ora ti parla finito un cazzotto a coniglio e ve lo faccio vedere che sgambetta a diretta. Ma dopo mi fai un pochetta, mi fai un pochetta con le patate. Parla di Larezzo, cammina. Larezzo molto bene, ha vinto 3 a 1 a Zagarolo, una trasferta comunque non facile. Ma te c'è? Che inviato sei che mi manca vedere lei? Veramente chi mi sono inviato lo dici te. Innanzitutto chi mi avrebbe inviato? No, quando... Perché uno è inviato, ma quando uno è inviato... Io ti invio, affanculo ti invito. Io ti invio, affanculo, ma te c'è mando veramente. E con te cazzo che si fa, l'inviato costa i propri soldi, io so, almeno le spese vive. Ma che ne so, dammi la paio lina col coniglio numido, almeno pranzo. Comunque la Rezza ha vinto 3 a 1, la Rezza ha vinto... Per domenica, ti fai il pagnerino. Ma che non è a zuco sopra e sotto... Come le migranti. Esatto, c'è mica problema. La Rezza ha vinto 3 a 1, mi sembra che stia dando continuità di risultati e soprattutto di prestazioni. Una squadra che è votata a giocare, una squadra votata all'attacco, che segna tante reti. La conferma di questo Martinez e quindi direi molto molto bene. Finalmente siamo tornati, Leo, siamo la prima squadra della provincia, perché siamo tre punti sopra il Monte San Sabino. Quindi finalmente anche questo è fatto. Io me ne vado, vi saluto a tutti. Mi scuso fin da ora con tutti i nostri spettatori per avere questo direttore, ma d'altro canto se gli togliamo questo incarico, questo si suicida. Quindi diventa un'azione sociale. Buona settimana a tutti. Buona settimana a tutti.